Avete mai visto le carte Pokémon in francese? No? Beh, è già sempre una prima volta perché oggi abbiamo la Premier Ball francese ragazzi Olè, dopo qualche mese sono riuscito ad aprirla, volevo leggervi che cosa c'era dentro, mi sa che l'ho strappato quello che c'era dentro ragazzi Eccolo qua, abbiamo Le buette Pokémon dell'Ujijiji Pokémon contiene, non ho fatto francese alle medie, non lo so ragazzi 3 Boosters Pack d'Ujijiji Pokémon, un PS Pokémon, un PS, One Piece, Pokémon Sole e luna, sole e luna, ombre ardenti, ombre infuocate e invasione scarlatta Signori miei, tutte in francese e anche una moneta Qua è bellissima, la moneta di Raichu questa è bellissima Codice, potrebbe servire a voi un codice così vecchio, francese, non lo so ma vediamo E ora il trick qual era, forse uno, due, tre, quattro, uno, due, forse Evoli, è vero che i nomi sono in francese Evoli Crabagarre Vorasterie Topicare da Lola Aracqua Energia dell'acciaio Ma tu, perché non hanno lasciato i nomi originali? Crisacier Atrapè per Pokémon Eflashe reverse Mascadra 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 Uno, due, tre, quattro, uno, due Ma io non so perché ma ho la sensazione che non troveremo nulla in questa Premier Ball Ma già solo per questi nomi Vale la pena di lasciare un bel like E l'iscrizione se ancora non l'avete fatta Misterb Skellenox Skellenox Spododo Oh mio Dio Cenipan Maril Maril è rimasto uguale Non si sa perché Energia Erba Super Rappel Super Rappel Apocin Apocin Ipocean Ipocean Flotutan Reve Oh mio Dio è bellissimo E E no è Dengtrisse No Dengtrisse Boia E si va con l'ultima bustina di sole e luna Invasione Scarla Invasione Carmine Fer Ferosinghe Tritox Tritox Spoink Spoink è rimasto uguale Non si sa perché alcuni rimangono identici Non si sa Karabing Saperau Saperu Saperu Energia Psico Rom Psico Lim Limaspid Ma che Però che bella artwork 911 No Ah 911 Ah ok Allora no Niente niente Comfort Gore Reverse E ma che palle E ma che palle ragazzi E tu Raptor Normale Eh 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 Oui oui E mi